Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò il mio contest entry per Flower Power. Prima di tutto grazie per aver fatto questo contest e questo è il mio cupcake estivo. Allora, la base è stile marino, quindi con le sfumature del blu. Poi qui c'è la cremina, che è sabbia, con la texture. Qui gli occhi kawaii, poi qui c'è una piccola conchiglia azzurra. Qui un'altra viola e qui c'è una piccola stella marina. Spero che questo cupcake ti sia piaciuto. Do un in bocca al lupo a tutte le ragazze. Grazie ancora per questo contest e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!